Ora, non siete mali, però io metterei anche un lato così, esatto, quindi passi all'altro giro, quello più cattivo, e vedi, vedi, scusate, adesso tu fai un giro, tipo un basso per l'alto, tipo ogni stanza, e dopo mai sono fatti, è bravo, principe di gara, sicuramente, ma che roba, eh, da sì! Bravi, bravi! Grazie! 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 Non è mai un'unità, non è mai un'unità, e che è chiaro presto da l'està. Ma il tuo capello che va, Grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti.